E qui ragazzi scatta l'applauso esagerato per Pascal Peo, tutti insieme vai! E' stato veramente bravissimo, Cucun Francoforte! All right baby! Salutiamo Pascal Feos! Grande sorpresa da questo momento, il console per voi! La regina di Perverta, Obi! Baby! Inventor, art director and DJ! E questo è quello che vuole anche per fare! Volevo a fare un nuovo Festival! E poi esce spaggziare la cosa che никакia non è che ho fatto fare! E qui ci è un po' di roti, un po' di roti, un po' di roti, un po' di roti e un po' di roti, un po' di roti. E' un po' di roti eccetera, un po' di roti e una ropa che ho parli. Così è un po' di roti eccetera. E' un po' di roti eccetera. E' un po' di roti eccetera. Grazie a tutti. 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 . a tutti.